numero 28, Marzelo a disposizione il numero 13, Medica 7, Peppe 14, Puginic 18, Paella 24, Ciaccherini 32, Inquanto 34, Marone Bianconeri, su una scelta e qui non vive forza di rubare grazie a tutti dove trovato nel nostro figlio da Leonardo Giallo in profondità del personale dietro grazie a tutti grazie a tutti attenzione a servizio attenzione a tempo il signore di Leonardo Giallo che è plegato in Eccanzi alla posta di polizia della tribuna Bonte Mario dove troverà a tempo suo figlio Gareotto Giallo in compagnia del personale addetto grazie grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.